Blasioli, si parla tanto di riqualificazione dei quartieri periferici di Pescara, non solo del quartiere di Rancitelli. Ci sono dei fondi Cipe disponibili, però voi denunciate un mancato coinvolgimento da parte dell'amministrazione comunale di Pescara, mancato coinvolgimento dei cittadini e anche delle forze politiche di opposizione. Intanto diciamo che sono arrivati 15 milioni e 200 mila euro per l'abbattimento dei tre famosi palazzi di Via Lago di Borgiano, quelli sfollati nel 2017. Le avevamo chiesto noi come Comune di Centrosinistra, ci ha lavorato la Regione di Centrosinistra, oggi sono arrivati, c'è il decreto e siamo molto felici per questo. Noi chiediamo invece di essere coinvolti non solo come gruppi consigliari al Comune, ma anche come cittadinanza tutta, nelle scelte urbanistiche, perché non sono solo scelte urbanistiche che necessiterebbero naturalmente del passaggio in Consiglio Comunale, ma sono scelte che riguardano i carichi antropici, la qualità della vita delle persone, anche aspetti sociali, oltre che naturalmente il diritto alla casa per le famiglie o meno abbienti. E' quello che invece non c'è stato. Con una delibera del 14 di ottobre, l'Ater di Pescara, sentendo il sindaco Masci e il presidente del Consiglio sospiri, decide all'insaputa di tutti, di tutti, quello che bisogna fare con questi soldi. Abbattere le tre palazzine di Vialago di Borgiano, su cui noi invece diciamo di fare velocemente, perché sono pericolanti dal 2017, e di non ricostruire lì perché c'è un carico antropico pesante, ma vogliamo decidere con loro dove andare a realizzare le nuove palazzine. Non può essere, come hanno già deciso, che le nuove palazzine vanno realizzate sempre all'interno di insediamenti popolari, come qui alle Gescal, proprio di fronte alla scuola, in un altro spazio verde, dove dovrà nascere ancora vicino un altro supermercato che è pure molto contestato, o ancora, per esempio, in maniera molto grave, tra Via Tavo e Via Trinio, cioè a pochi passi dal ferro di cavallo. Insomma, sono delle scelte che noi vorremmo condividere, soprattutto perché questo decreto prevede il consumo di suolo zero.